La Fiorentina dovrà giocare in trasferta per due campionati dalla metà del 2024 alla metà del 2026, fuori dallo Stadio Franchi che sarà oggetto di lavori di ristrutturazione. Dopo l'annuncio fatto ieri dal sindaco di Firenze e da Leonardella, oggi cominciano a farsi largo alcune ipotesi. Molti parlano di strutture fuori regione, come lo stadio di Modena. Alcune sono difficilmente attuabili, come quella del presidente Eugenio Gianni, che chiede un supplemento di verifica della soluzione Castello, ossia lo stadio del complesso della scuola Marescialli dei Carabinieri. L'altra ipotesi, già circolata in verità da tempo, era quella dello stadio di Empoli. La sindaca Brenda Barnini ha detto di non aver ricevuto alcuna richiesta, ma ha ribadito ancora una volta che difficilmente il quartiere potrebbe sopportare il carico di due squadre di Serie A. Barnini ha anche ricordato che il Castellani ha una capienza di 16.000 posti a fronte di un numero doppio di tifosi viola stabilmente presenti allo stadio. Sul tema è intervenuto anche il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Francesco Torselli, che ha fatto un appello al presidente della giunta regionale affinché, aiutato magari dal nuovo segretario del PD Fossi, che nella vicenda a stadio, continua il consigliere, da ex sindaco di Campi Bisenzio, è minuziosamente edotto sia ad operi a convocare attorno a un tavolo i sindaci di Firenze e Empoli per trovare una soluzione. Si dice tranquillo, il primo cittadino di Firenze una soluzione sarà trovata nell'interesse della squadra e della città. I rapporti tra il Comune e la Fiorentina sono eccellenti, mai stati così buoni. Ci siamo già visti molte volte, abbiamo da tempo aperto il tavolo tecnico e insieme individueremo le soluzioni più opportune per affrontare questa fase molto complessa, ma altrettanto entusiasmante, che ci porterà ad avere uno stadio nuovo. Non ci sono motivi di ansia o preoccupazione perché stiamo lavorando bene e con grande spirito di collaborazione, nell'interesse della città, dei tifosi e della società di calda.